Pesanti accuse di gossip, ma che va anche oltre il gossip di Super Mario Balotelli, fidanzato con Raffaella Fico, una gran bella pezzo di ragazza, e che è andata sui giornali Balotelli qualche giorno fa perché aveva avuto una forte discussione con la Raffaella Fico e i vicini di casa hanno chiamato la polizia, no tutto a posto, tutto a posto, stiamo ridicando per questioni economiche. Ma oggi la notizia, battuta adesso da Londra, il The Sun, un grande giornale di tabloid e altri, ne fanno eco, parlano che addirittura Super Mario abbia organizzato a poche ore prima di un allenamento importante in vista di una gara decisiva per la vittoria della Premier League, cioè della Serie A inglese, addirittura un festino a luci rosse con delle escort, si parla addirittura di quattro escort, Balotelli è forte fisicamente, ne ne servono quattro, ha beato lui, vabbè c'ha vent'anni, che Dio lo benedica. Fatto sta, noi, certo, al di là dell'invidia, però diventa comunque una questione di stato perché comunque Balotelli è un personaggio pubblico, un personaggio che in Inghilterra viene martellato continuamente e si sfraceva una volta con la macchina e litiga con Raffaella Fico e manda a quel paese Mancini, Mancini addirittura forse lo vuole cedere, però Balotelli è pure un giocatore forte. Lo scandalo adesso, cioè appunto perché, che è successo? Balotelli ha chiamato tramite un sito, non vi dico quale, praticamente anche perché i siti di escort sono illegali in Italia, non so se in Inghilterra, forse sembra di no, tramite un'agenzia di escort gli hanno mandato quattro belle gnocche e lui ha fatto quello che doveva fare per delle ore e poi la mattina presto ne ha fatto uscire un po' alla volta, gli ha pagato addirittura 245 sterline ciascuna, cada una che saranno un 350 euro, credo un 300, 300 euro, 300 euro ciascuna insomma, quindi 3 per 4 1200 euro, beh neanche tante per uno piccolo come lui. Chissà cosa ne pensa Raffaella Fico, chissà se poi Raffaella Fico ha litigato proprio per questa cosa, non si sa, tutta gossip, noi campiamo col gossip ma campiamo anche col calcio e col calcio ci campano tanti con informazioni con il gossip anche in Inghilterra. Questa è una notizia vera o falsa, è stata andata da giornali autorevoli e anche in Italia, addirittura che dalla Gazzetta dello Sport, gazzetta.it. Ciao, bye bye.